tifo napoli quando è che tifo napoli bravo bravo sabio hai sentito sabio tifo napoli e domenica e mercoledì con la juve non penso penso che vadano avanti indietro ragazzi c'è aria comunque ma poi si scambiano le maglie negli spogliatoi qui si si orribile però questa maglia grigia a me non piace sembra l'alessandra veramente che ormai non conosco più nessuno ha addirittura di tifosi non conosco sono arrivato qua visto lui chi è non lo so tifoso nuovo sto riprendendo ai fatti bravi non facciamo commenti sentite qua mi prendo un accidente dove siete domani peppe sono forti con il gasino uno a uno con i nuovi commenti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Venga a vederla da te, venga a vederla da te. No, Savio, a posto, perlottato. Vai, 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 vai. Venga a vederla da te. Se viene Claudio, vengo anche io. Sì, ma lui mi ha detto che è sottovalutato. No, 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 no. Ho capito. Sai cos'è se si scrive... Aspetta che la riprenda, dimmi. Segna Higuain, ma vince il Napoli. Boh, è memorizzato ormai. Salvo, che è? Però dove è successo? Salvo. No, c'è faria che la riprenda. E c'è il tuo carto? Morri. Guarda l'Italia è morta. Oh, oh, calma. Che è successo? Chi è? Fabio. Trombe? Eh. Ti ha fatto male? Eh, so, piccantò. Un po' tanto. Mi ha contato Fabio. Buona, lascialo andare. C'era, c'era. Cazzo, te ne facciamo come la Juve, lo vengono tutti. Guarda che loro lo segnano. Ho visto la Juve anche come ne vendono i biglietti. Eh, prezzi tutti. Ladri. Assassini delinguenti. Ho trovato l'autografo di Bordone, te lo ricordi Bordone? Oh, ciao, la lista. Hanno avuto tutti. Auguri, eh. Finalmente. Ce l'hanno fatta? Oh, il derby al mese giorno e mezza, eh. Il mese giorno e mezza è il derby di domenica. Mi sa che mangiù primo tempo mi riesco a vedere qui. Adè, casa, lavoro. No, bravo bene. Eh, mamma mia, sono stati posti. Sto po' ziochi, non mi ha dato a con i miei posti. Adè, guarda, guarda. Adè, guarda, guarda. Adè, guarda, guarda, guarda. Adè, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Adè, guarda. Ciao. Guarda, se l'ho esperato, però non c'era. Grazie a tutti 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 e Matti? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Anzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti